ALCUNE PERSONE Nessuno salga di sopra È davvero pazzesco Benvenuti da Mar Con chi stavi? Con degli amici di scuola Tua madre è un tesoro, eh? Meg, voglio presentarti una persona Cosa? Saluti da Mar Sapete dov'è la festa? Ai nostri numeri Te l'avevo detto che c'erano tutti Non possiamo andare Che cavolo Guarda qua Megchi Sento quei tuoi occhioni da cerbiata Che mi guardano Perché mio figlio Passa del tempo in casa tua? Alcune persone si ambientano subito Spogliati Quello che mi hai fatto Non lo dimentico È freddo, è freddo Come ci si sente A guardare Da fuori Non mi divertivo così Da un sacco di tempo Oh